Ciao a tutti, ciao a tutti gli amici di Juventibus che ci stanno raggiungendo in live, ciao a tutti quelli che sono già qua, soprattutto quelli che arriveranno. Oggi insomma siamo qua in questa veste inedita, vi presento chi è con me oggi per questa live. C'è accanto a me Michele De Blasis, ormai lo conoscete, ciao Michele. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sotto a Michele vediamo Orfeo Zanforlin, lo conoscete, tele Lombardia, allenatore, ciao Orfeo. Ciao, ciao, un saluto a tutti voi. E salutiamo anche il mitico, l'inimitabile Claudio Giuliani, ciao Claudio. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Io vi chiederei così se siete d'accordo per iniziare un minuto di raccoglimento per sapere insomma come stanno in questo momento Liguori, Afragolesi, Palmieri, Allangri, Renzi e Lavirtus e Carnesis che si è ritirato in attesa di capire perché le loro povere carriere sono state travolte dalla plusvalenza Osimè. Ma pensi Claudio che giochino da qualche parte pensi o che si siano ritirati o dopo aver vinto tanto, chissà cosa non hanno vinto questi ragazzi. Lo so poverini, però devo dirti che questa mattina mi sono rasserenato perché finalmente ho letto in prima pagina, attenzione, Napoli, quel sistema per ammortizzare i costi. Ho detto adesso, lo spiegano il sistema per ammortizzare i costi. E il sistema è questo, prendere Osimèna 76 milioni e i 5 anni di contratto mettere il 40% di ammortamento sul primo anno, poi 30, 20, 7 e 3. E io ho detto 76 milioni, mi risultavano più di 90, ah certo mancano i 20 milioni dei quattro famosi ragazzi. E quindi quelli sono già anche miracolosamente scomparsi dalla spiegazione dell'ammortamento del contratto. Infatti io Claudio, gli ho detto, lo avevo avvisato, lo voglio sentire scatenarsi ora perché noi abbiamo vissuto quei mesi che sono andati da quando sono uscite le notizie, ormai l'anno scorso, però abbiamo sofferto praticamente fino a maggio-giugno dell'anno scorso, sono stati mesi veramente pesanti per noi tifosi, per il morale della squadra, ha pesato tantissimo. Noi ci meritavamo un po' di tensioni, questo campionato meraviglioso di inizio di quest'anno non le merita più le tensioni e neanche la ricerca della verità, anche perché queste perturbazioni interne che si stanno creando, come dice Gravina, tu capisci che sviliscono questo prodotto calcio che oramai è vendutissimo in tutto il mondo, la gente non dorme la notte per vedere le nostre partite, quindi perché creare queste perturbazioni interne? Io non me lo spiego sinceramente, non so voi però. No, 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 ci torniamo, ci torniamo, ci torniamo, ci torniamo. Primo argomento di quest'oggi, si conclude il turno infrasettimanale che ci avessi impegnati con il Lecce, ma nel frattempo ha visto anche andare delle altre partite, insomma abbiamo visto l'Inter schiantarsi contro il Sassuolo, il Napoli tornare alla vittoria, insomma ci sono state la Roma schiantarsi contro il Genoa in maniera abbastanza fragolosa, ci sono stati abbastanza risultati anche un po' sorprendenti. Vorrei partire da noi, parto da te Michele e poi arrivo per ultimo da Orfeo perché voglio chiedere un'analisi un pochino più approfondita, chiedo qual è il tuo parere su questa partita, perché per come l'ho vista io è stata una partita non entusiasmante, ma molto efficace, anche in vista poi di quelli che sono stati i risultati delle altre, tre punti che comunque ti tengono lì, ti hanno avvicinato all'Inter, comunque sono stati tre punti importanti arrivati, come si dice in gergo, da grande, soffrendo poco. Vai Michele. Da orto muso, come direbbe qualcuno. No, sì, più che altro mi ha sorpreso soprattutto il fatto che il Lecce, nonostante giocasse un bel calcio e creasse più di sette occasioni a partita nelle prime cinque giornate di campionato, non ha mai tirato in porta e soprattutto questa solidità e solidità difensiva in questi tipi di partite che possono essere anche complicate perché abbiamo visto ormai anche le piccole mettono in difficoltà le big. Questo dettaglio mi ha sorpreso sinceramente, ovviamente positivo. Poi a maggior ragione, come hai detto tu, prima Virgi, in relazione anche ai risultati delle altre squadre, sono tre punti che in ottima classifica sono molto importanti. Se non avessimo sbagliato quella famosa partita di Reggio Emilia, magari ora stavamo vedendo tutti dall'alto, però quelli sono incidenti che magari possono possono anche succedere nell'arco di una stagione, anche se al di là degli errori individuali dei vari giocatori, c'è da fare anche un'ulteriore analisi sulla prestazione di Reggio, magari ne parleremo dopo, però la solidità difensiva è sempre la base per tornare a fare magari anche dei filotti di vittorie consecutive, anche se ora la Juve ha tre partite molto difficili. Claudio, io passo a te la stessa domanda e poi se vuoi ti faccio anche quest'altra, ovvero l'impressione che c'ho in questo periodo... Ti faccio con calma. È giusto secondo te che nella valutazione di questo inizio di campionato ci vada ad entrare anche quella che è la valutazione degli scorsi anni che ci hanno portato fin qua? Se ti senti rispondi a tutte e due. No, nel senso non c'entrano niente gli altri anni con questo campionato, questo campionato ovviamente come tutti gli anni deve essere valutato per questo campionato. Se invece la domanda è sull'allenatore, allora se si vuole fare un discorso sull'allenatore, chiaramente bisogna capire da quando è tornato, a quando finirà il suo mandato, che tipo di seconda stagione è stata l'Allegribis. In questo momento il campionato è appena iniziato e lo dobbiamo valutare per quello che è. È un campionato perturbato, ci sono delle tensioni eliminato, quindi capisci che insomma le teste... Vedi che i risultati che vengono fuori. Sassuolo va a vincerà a Milano, la Roma becca quattro pere da Genoa, però Mourinho vedo che non subisce lo stesso trattamento del nostro allenatore. Lì non è lui che non ha gioco, ma è la squadra che sta un po' rovinando il finale di carriera di Mourinho. Hai capito? È un po' come la racconti la cosa, no? Cioè questo si è beccato tre sconfitte in sei partite, di cui quattro pere col Genoa, però è la squadra che gli sta un po' rovinando questo momento di carriera. Mentre noi, se vinciamo in merito nostro, che andiamo a tifare, se perdiamo ovviamente è colpa dell'allenatore, che però da quando è tornato insomma un po' del suo ovviamente ce l'ha anche messo, no? Per cui chiaramente si è creato questo dualismo interno. Noi abbiamo le perturbazioni interne, non ci interessano quelle del campionato, ci bastano le nostre. Quindi la metti così, la metti sul piano, è un discorso di narrazione, no? Che sull'allenatore viene fuori perché sì. Un po' sì, noi possiamo dirci quello che vogliamo, però io sinceramente questa cosa che appena perdiamo viene fuori il discorso di Allegri, quando vinciamo o pareggiamo si parla di altri, cioè o lo facciamo sempre o non lo facciamo mai. Siamo in un campionato in quella sesta giornata, la Juventus che non parte a livello delle... Allegri ne cita sempre tre, vogliamo toglierne una, vogliamo dire due, facciamo due. Comunque la Juve sicuramente non è in pole position, no? Su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo dal punto di vista della Rosa rispetto alle altre. E allora facciamo un discorso complessivo, in questo momento è a due punti dal primo posto, ne ha fatti tre in più dell'anno scorso e probabilmente ha delle possibilità per fare una buona stagione, credo. Se vogliamo pensare di competere per lo Scudetto, è un discorso un po' diverso e ci vogliono un po' di astri che si allineino, insomma un po' di cose che vadano al punto giusto tutte insieme. Se tu vai a Sassuolo e fai quella orribile partita e becchi quattro pere, quasi tutte per colpa tua, però c'hai anche l'arbitro che non butta fuori Berardi e capisci che il pianeta non è molto allineato, perché probabilmente se te lo buttava fuori magari staremmo parlando di una Juventus in terza classifica che era l'intero Sassuolo. Però se l'avesse buttato fuori non avremmo avuto in terza suolo una a due. No, ho capito, però vedi com'è anche lì il racconto. No, scherzo, scherzo. No, brava. Il racconto che sta passando è che loro si lamentano perché Berardi andava espulso e quindi squalificato per San Siro. Sì, ma guarda che se Berardi andava espulso, io non perdevo con Sassuolo, giocavo 40 minuti 11 contro 10. Sono io che sono stato penalizzato, oi giovani. Raffaella ci scrive, Berardi non è mai dal rosso. Orfeo, arrivo da te. Io ti chiedo un po' un'analisi di questa partita, perché se ne è parlato tanto, si è parlato tanto di una Juve che non è stata bella, però una Juve che alla fine ha subito zero tiri in porta da una squadra che aveva una media di 14 tiri in porta a partita nelle prime uscite che aveva fatto, insomma, nelle uscite che aveva fatto prima di incontrarci. Che partita hai visto? Te lo chiedo anche perché, insomma, dal punto di vista professionale sicuramente c'hai un occhio diverso rispetto a noi. Sai, la bambola di Reggio Emilia con il Sassuolo ha lasciato il suo segno, le aspettative erano tantissime, si volevano a Juventus votata l'attacco con una reazione anche dal punto di vista nervoso di altissimo livello, quindi così non è stato, anche se abbiamo fatto risultato, abbiamo portato a casa i tre punti che fanno solo che bene, basta guardare la classifica. Certo è che l'analisi a caldo nel post partita era un po' critica, no? Come dire, si doveva fare, si poteva fare di più. Poi, come diceva Michele prima, attenzione, invece nella prima parte, nelle prime gare di campionato andava alla conclusione almeno da 7 a 10 volte. Questo la Juventus gli era assolutamente negato, quindi una buona prova difensiva, bisogna darne atto di questo. Non abbiamo avuto tantissime occasioni, questo è vero, c'è da lavorare ancora, probabilmente c'è da migliorare, però visto invece a freddo dopo qualche giorno, rivedi la partita e fai delle considerazioni che sono diverse, prendi il buono e il meno buono. Non sarà stata una bella partita, ma è stata una partita, secondo me anche ben giocata da parte della Juventus in questo momento, che Allegri bisogna riconoscere qualche demerito sicuramente, ma anche dei meriti, quella di preparare la gara di volta in volta, secondo dell'avversario e quindi anche ridurre i rischi e i pericoli, questo è successo con il Lecce e scontando al massimo cinicamente quelle poche occasioni che riesci a concretizzare. Certo c'è da migliorare, ma c'è la volontà di Allegri di migliorare, perché anche nella passata stagione con l'arrivo di Bianco a dare una mano al suo staff dal punto di vista tattico, quest'anno invece Bianco è andato via, è andato ad allenare il Modena, Riva Magnanelli, si vede che c'è una parvenza di buone iniziative per così portare la Juventus a giocare un calcio un po' più, non dico spregiudicato, ma un po' più propositivo, però questo ci sta costando un costo forse troppo alto, perché commettiamo molti errori, a Sassuolo abbiamo commesso degli errori individuali, se non avessimo giocato così probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa senza considerare poi quella che poteva essere l'espulsione di Berardi. È una Juventus che però è lì, siamo lì e siamo felici, contenti, felici e contenti relativamente perché non siamo mai contenti, perché siamo molto esigenti, non ci basta più vincere, vogliamo che la nostra squadra convinca anche, ma ci sta provando secondo me in tutti i modi, con delle iniziative propositive, vedo qualcosa di nuovo anche nelle scelte che fa lo stesso allenatore, anche nei cambi che fa appunto, quindi secondo me dobbiamo essere anche positivi. Il vero, la vera prova, le vere prove cominciano adesso, adesso abbiamo l'Atalanta, poi avremo anche il Milan, quindi abbiamo delle partite molto importanti e qui vediamo veramente, occhio al Milan. Occhio che era a Bioccio a Tre Gialli, sta entrando in diffida, attenzione. Certo, certo. Claudio, tu dicevi prima, parlavi di comunicazione, certo, la comunicazione di massa non è sicuramente dalla nostra parte, assolutamente no. No, veramente? No, ma veramente, mi piace la tua ironia. Questa è una news, vedi? È una novità, è una novità, no, è una mia conferma, dai, non è una novità, lo sanno anche i Sassi. Ma tu da cosa lo deduci, dal fatto che Tiago Motta del Bologna si è lamentato di Monza Bologna ma oggi è in ventiduesima pagina? No, mi lamento del fatto che tutti quanti, quelli che giocano contro di noi, vanno in sala stampa e fanno annunci... Come mai? Demoniaci, no? Cioè voglio dire, trattati malissimo. Poi le stesse cose magari sono successe anche contro, affrontando altre squadre, mi riferisco a Tiago Motta, mi riferisco a Penucci del Bologna. Ieri a Monza Bologna è finita 0-0, al Bologna gli annullano un gol dove Zirze, il loro giocatore, prende la palla nettamente e gli annullano il gol perché dicono che ha fatto fallo. Tiago Motta dice da qualunque, oggi è a pagina 22, non se lo fila nessuno, nessuno se lo ricorderà nessuno Monza Bologna. Da noi in post partita, si può dire dai a quest'ora non è una fascia protesta, incazzati come mai a lamentarsi dell'arbitraggio, scandaloso quello che è successo, non li hai più visti, lo stesso trattamento, se vogliamo chiamarlo trattamento, è successo anche. Però il problema nasce anche da noi, perché se noi, io lo ripeto fino alla nausea, anche se dà fastidio sentirsi lo dire, ma se noi abbiamo fatto un ciclo di nove campionati e al secondo già storcevamo il naso e dalle altre parti per uno scudetto mi hanno parlato di esempio da seguire, di ciclo, di calcio spettacolo, di roba che non si è mai vista e noi ci siamo lamentati già al secondo scudetto, siamo anche noi che contribuiamo a questa roba qua. Cioè noi adesso dobbiamo commentare l'inizio di questo campionato e siamo già a schifo. Ma è appena iniziato, perché scusami, a Udine abbiamo vinto bene già nel primo tempo 3-0, a Empoli abbiamo vinto senza problemi 2-0, ah già ma era l'Empoli, poi scopri che magari con altre squadre anche lì si può andare in difficoltà. Dice, ma abbiamo fatto col Sassuolo male? Sì, però prima avevamo vinto molto bene con la Lazio, non è stata una bella partita con la Lazio? Sì abbiamo vinto. Assolutamente. Ah no, scusa, è vero, il gol c'era il pallone oltre la linea laterale, mi sono rubato. No, ecco appunto, però... Ma se noi siamo i primi, ma se noi siamo i primi, perché ho finito Juve Lazio? Mi sono beccato dei commenti di gente che diceva che il pallone era fuori. Ma ragazzi, ma se siamo i primi noi? E allora, poi non lamentiamoci. Sassuolo è un disastro di partita, ok? Benissimo. Siccome io purtroppo ho il vizio di riguardarmene tre volte anche quando perde gioco male, e come diceva poi Orfeo, alla seconda vedi altre cose, alla terza vedi altre cose ancora, perché non sei in preda al disastro che è schifo e analizzi un po' le robe. Io oggi mi sono guardato il video degli elementi della Juve. Allora, il video di oggi, andatevelo a vedere sul canale della Juve, degli elementi della Juve, ha Allegri che, forget it, De Zerbi è quella roba lì, perché lui non sarà mai uno degli schemi. Però c'è Allegri che prende tutti i giocatori, Vlaovic compreso, Kostic compreso, e gli spiega cosa deve fare. Se sei lì, lui ti scarta di là perché è mancino, quando sei in quella posizione di campo ti devi andare. Cioè, gli insegna tecnicamente come dovrebbero giocare nella sua squadra. Ora, se tu riguardi la partita di Reggio Emilia col Sassuolo, dove abbiamo giocato male, è uno schifo, ed è vero, però il racconto della partita è che la Juve non tira mai in porta. La Juve fa 13 tiri verso la porta, ma li mette tutti fuori. Se Vlaovic, invece che tirarmi una ciabattata davanti al portiere fuori dalla porta, segna, è un gol, e a calcio si vince con i gol fatti, e i gol non subiti, ma soprattutto con i gol fatti, perché se non li fai non puoi vincere. Ora, se i nostri giocatori a Sassuolo, anzi a Reggio Emilia col Sassuolo, hanno tirato 13 volte e non hanno beccato una volta lo specchio della porta, abbiamo beccato tecnicamente. Certo, certo. Però resta... Se vincivano la porta, cambiava la partita e vincevamo con tre punti a calcio. Certo, però nell'analisi che fai, si evince che la Juventus è arrivata alla conclusione attraverso un gioco più o meno manovrato per ben 10, 12, 13 volte. Questo rimane. Poi, se tecnicamente hai sbagliato, vuol dire che dobbiamo migliorare questo aspetto qui. Però non è cosa da poco arrivare alla conclusione così tante volte. No, ma io ti dico, siccome il mondo ormai si è spezzato in due, io non ho capito il perché. Io voglio che qualcuno mi spieghi da quando, ma non noi Juve, tutte le squadre ormai, da quando il mondo si è spezzato in giochisti e risultatisti. Io, Orfeo, penso che più o meno come età ci siamo, io sono nato in un mondo dove andavamo per vedere la partita e io volevo vedere la mia squadra che segnava e vinceva la partita. Non mi sono mai posto il problema dei giochisti. Io voglio vincere la partita. Allora, se io la partita da Sassuolo non la vinco, perché i miei giocatori tirano in porta e non beccano lo specchio, devo cercare di capire come farli migliorare tecnicamente, perché a cazzo conta la tecnica. Poi, tu mi dirai, ah, Napoli ha vinto uno scudetto giocando bene. Benissimo. Poi è finita l'estate. È finito anche il resto, è finito tutto. È finito tutto il circo Togni. No, però, proprio questa domanda ti avevo posto prima, Claudio, cioè il discorso che era come se si aspettasse il passo falso, chiedo anche a Michele e Orfeo, si aspettava il passo falso per tornare a ribollire tutta una cosa che ci portiamo dietro, un libore che ci portiamo dietro. Ma l'anno di Sarri, l'anno di Sarri, scusate, ma noi però abbiamo la memoria corta. Ma guardate che questo non è per prendere, perché il nostro mondo ormai è diventato, tu prendi le parti di Allegri, tu sei contro Allegri, ma non deve essere quella roba lì, dovrebbe essere noi tifiamo la Juve, cioè vogliamo il bene della Juve, che ci sia Allegri, Sarri, Pirlo, McKennie ad allenare, cioè vorremmo vincere. Allora, l'anno di Sarri, Sarri non era il giochista per Antonomasia? O no? Sì, Claudio, il problema è che negli ultimi anni c'è questa corrente di pensiero forte, che è più importante giocare bene che vincere, io francamente non la capisco e non la condivido, io gioco bene e poi gioco per non retrocedere, ho una squadra di metà classifica e poi se ti chiami Juventus, figuriamoci, cioè purtroppo questa corrente di pensiero sta creando dei danni, che vediamo anche purtroppo allenatori che in un certo qual modo recepiscono questo negativamente, ovviamente questo messaggio, che poi lo portano anche nel loro modus operandi di lavorare e di preparare le partite. Non mi ricordo se in questo ultimo turno o nell'altro, non avevo mai visto, forse vi ho anche numerati quante occasioni da gol e gol subiti per eccesso di costruzione dal basso, una roba pazzesca, senza considerare che in ogni squadra ci possono essere giocatori più o meno qualificati, la metto giù scolasticamente parlando, qualificati per poterlo fare, perché hanno capacità tecniche, qualità e caratteristiche per poterlo fare. No, adesso è tutt'uno, un mischione, cioè qualsiasi, adesso vuole costruire dal basso, e vedo delle cose che nella storia si potranno ricordare come delle clamorose, non lo so, scene da circo, io non so se le avete notate queste cose, ma in ogni campo si vedono queste cose, e io francamente è un atteggiamento, anche da parte degli allenatori, come allenatore dovrei dipendere la categoria, ma in un certo qual modo, siccome non condivido queste scelte, questa strategia, a volte è anche un piano gara così, vedi degli errori colossali, metti in difficoltà la squadra, metti in difficoltà il singolo giocatore, e questo sicuramente non aiuta a valorizzare gli stessi. Diciamo, io non so se siete d'accordo, però mi sembra un po' che abbia preso il sopravvento, il giudizio dell'allenatore, cioè sull'allenatore, il personalismo dell'allenatore, nei confronti di quello che era prima, cioè si guardava l'insieme, si guardava la squadra, ad oggi invece la squadra è il contorno in cui agisce l'allenatore, poi veramente, cioè io penso che, io credo che arrivati a questo punto sia difficile, non so, ma come la vedo, credo che sia ancora un processo lungo quello di arrivare di nuovo a un equilibrio, però in questo momento credo che ci sia un disequilibrio, proprio da questo punto di vista, che non si riesca a trovare il punto di unione tra queste due visioni di pensiero, che sono alimentate da voci forti, sia da una parte che dall'altra. Ecco, io credo che il problema stia anche un pochino lì, però voglio un attimo ritornare al discorso su di noi e sull'attualità, e arrivare un attimo chiedendo anche a te Michele, cosa, cioè vedendo quella che è la situazione, come è la classifica e tutto, visto che tra due giorni si giocherà anche contro l'Atalanta, io ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, nel senso a cosa dobbiamo puntare, non ci dobbiamo sbilanciare, dobbiamo davvero soltanto puntare al quarto posto, dobbiamo pensare a qualcosa di diverso, sai, magari anche per il lavoro che fai Michele, visto che insomma ti scrivi per la gazzetta, scrivi per un po' di giornali, ti chiedo anche se è tutto vero quello che ci viene raccontato, se c'è magari un non detto, che riguarda degli obiettivi che ci sono, ma di cui non si parla. Io vorrei fare prima un passo indietro, sulla questione del gioco, non gioco, bel gioco, tutto quello che volete, però volendo o non volendo anche il calcio evolve, e si sta andando sempre più in questa direzione del bel gioco, che poi è giocare bene, che vuol dire, però un conto è saper giocare con intensità, con la pressione alta, dominando proprio le partite. Io spesso sono anche a Sanziro a vedere l'Inter, e al di là della sconfitta per Dono con il Sassuolo, però l'Inter è una di quelle squadre che domina le partite. Poi puoi anche perdere, però ci sono modi e modi di vincere o di perdere. Io sono sempre più convinto che l'aggressione che hai sugli avversari. Claudio, sì, giustamente prima diceva che a Reggio Emilia la Juve ha sbagliato anche molto tecnicamente sotto porta, però c'è anche l'altra parte della medaglia, anche il Sassuolo ha sbagliato tanto sotto porta. Se prima dell'errore di Vlaovic e dell'ipotetica espulsione di Berardi il Sassuolo era 3-4-1, penso che non si era rubato nulla. Non lo so, però si può dire anche che se nei primi 10 minuti non eravamo 2-0 non si era rubato nulla, perché nei primi 10 minuti il Sassuolo non passa da metà campo. E se vediamo le partite alla Gagliani, ognuno può dire quello che vuole. Sai, Michele, sai qual è il punto, Michele? Scusami se mi introduco. E' che sembra che sia solo la Juventus a giocare male. E non ci ricordiamo che il Milan fa pessime figure come le ha fatte nelle prime gare, se non mi ricordo esattamente quale. L'Inter fa una brutta figura in Champions, se non gioca bene fa una brutta figura, poi comunque fa risultato. Ma non è che faccia questo grande calcio in quella partita. A Empoli non fa una grande partita, la Roma non fa una grande partita. Non vi sovrapponete, per favore. Bravo, bravo Claudio. Era col Verona. C'è una partita che i nostri tifosi avrebbero detto che schifo. Esatto. E che il pubblico ce li ha in classifica, non è che li restituisce. Questo è il punto. Sembra che giochiamo solo male noi, capisci? No, no, no. Allora il problema è, se Allegri non vince, se non vince, non ha raggiunto lo scopo. Ma non se non gioca bene per quello che uno intende il calcio, perché ognuno poi lo intende come vuole. Per me, se facciamo difese contro piede, vinciare 3-0 una partita, io sono contento, mi diverto, festeggio. Non è che dico, ah, ma non abbiamo fatto lo schema della sua... Ma ognuno la vede a modo suo il calcio. La mission di Allegri dev'essere raggiungere il risultato. Se non raggiunge il risultato, però sfugge un particolare. Uno dice, eh, non ha vinto i campionati. Eh, ma la società evidentemente non gli ha chiesto questo, gli ha chiesto di entrare nelle quattro. Tant'è vero che l'anno scorso ha fatto tutto l'anno a dire, eh, ma noi siamo terzi sul campo. Capito? Voi avete fatto l'esempio giustamente anche del Milan prima, però a parte il derby nella settimana precedente, le prime tre partite ha convinto molto e è andato a vincere... Eh, ma anche noi le prime tre partite a tratti, non compiutamente, ma a tratti abbiamo fatto bene. Scusa, ma il Milan che ha convinto molto, come è finito in classifica l'anno scorso, perdonami, com'è finito? No, vabbè... Il Milan... Com'è capito? La calcia si gioca per il risultato, mica per divertirsi e perdere. Scusa, il Milan era finito quinto, poi qualcuno l'ha messo davanti a noi con i nostri soldi della Champions, ma è finito quinto. Quinto. È un altro discorso. Quinto. Quinto è finito. Sto parlando un po'. Ciao Susanna. È arrivata. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ciao. Ciao Susanna. Qua per sbaglio, per sbaglio ho tirato fuori l'argomento allegri e ci stiamo scatenando. Ci stiamo scatenando come al solito. Io prima di ritornare poi alle nostre discussioni, perché qua tanto non ci arriva una conclusione, visto che insomma da Salentina, quindi per te era un po' un derby, ti chiedo un parere su questa partita, velocemente, poi insomma passiamo anche ad altro. io ero in un salotto pieno di persone che ti favano per il Lecce, con sciarpe, cappelli e lecce, quindi ero, cercavo di isolarmi in qualche modo, tutti a sfottermi. Siamo più in alto di voi, in classifica, perché poi chiaramente sono se non succedono mai. Siamo in Champions e poi alla fine è andata bene, per fortuna, alla fine ho festeggiato io. Ma una partita alla fine in cui non abbiamo mai sofferto, potevamo sicuramente migliorare su tanti aspetti, chiaramente ti aspetti magari una partita con più gollo, più facilità ad arrivare a centrare la porta più che altro, perché di tiri in porta ne abbiamo fatti tanti. però una partita in cui non abbiamo subito nulla, se non erro il Lecce non ha mai tirato in porta. Quindi credo che siamo stati anche, siccome io l'ho seguito molto il Lecce, io lo seguo ogni domenica quando è in casa, che bene o male non si sovrappone con l'orario della Juve. È una squadra che attacca tanto e con squadre anche come la Lazio le ha messe in difficoltà, squadre di alta classifica d'Aversa sta facendo un buon lavoro, poi vediamo se continuerà questo non lo so, però io ho temuto un pochino questa partita perché arrivavamo da un momento, cioè da una partita insomma bruttissima e il Lecce non ha avuto paura di nessuno fino ad ora quindi il fatto di averla contenuta così tanto proprio da non renderla pericolosa secondo me è stato un fattore positivo poi sì è sempre il Lecce ma ripeto è una squadra che ha degli ottimi giocatori Corvino ha trovato dei giocatori molto buoni soprattutto quest'anno più che l'anno scorso io ho notato che certi sono da seguire veramente e quindi e soprattutto hanno molta voglia di giocare non si secondo me li abbiamo contenuti molto bene poi potevamo sicuramente essere più concreti in fase realizzativa però dai sono contenta rispetto alla per ultima partita che è stata veramente una tragedia poi ha perso l'Inter quindi oggi è un bel lunedì dai io comunque mi attacco a questo commento di Duke Gordon che dice quello che penso anch'io ovvero che leggendo i commenti ma non solo qua in generale sui social in questi giorni da dopo la partita con Corsa Solo sembra davvero che non non si vinca cioè sembra di parlare di una squadra che abbia iniziato il campionato in maniera terribile e io dovremmo essere contenti siamo setti nel mondo nei social più il 15% dominiamo in Italia le classifiche dei social però i social non mandano in porta il pallone attenzione sì però quello che noto da lì è da lì che a me nasce la riflessione cioè penso davvero che la sconfitta contro il Sassuolo sia stata un po' il pretesto per far riuscire tutto quello che era stato contenuto con i mesi estivi e che si pensava potesse era un equilibrio precario ce lo aspettavamo e spero che la cosa rientri molto velocemente perché altrimenti credo che si generi un clima un po' non piacevole anche all'interno dello stadio abbiamo sentito nuovamente dei fischi anche la partita contro il Lecce insomma una cosa che spero che rientri un po' e questo perché la gente allo stadio non si diverte questo è il problema io pensavo che perché non c'erano le curve col tifo organizzato vedi le visioni del mondo a volte anche certo anche però perché quando con la Lazio c'era il tifo organizzato i fischi non li ho sentiti purtroppo io non ero ragazzi ma il calcio è il calcio non è show business americano noi ormai lo stiamo trasfermando nello show della NBA non è la NBA il calcio per noi italiani per noi italiani noi il calcio lo seguiamo perché è una fede ci piace vedere la nostra squadra perché vogliamo che vinca vogliamo festeggiare dei titoli se invece il mondo è diventato sta roba qua ditemelo almeno guardo direttamente la NBA magari Claudio comunque penso che Michele intendesse dire se avessimo giocato benissimo magari i fischi non sarebbero arrivati ma non è vero perché io allo stadio ci sono tutte le partite della Juve e ti posso garantire che le poche volte ormai che c'è il tifo organizzato e basta guardare in trasferta cosa succede la Juve becca 4 pere dal Sassuolo e la curva incita i giocatori a fine partita a Reggio Emilia andatevele a vedere le immagini perché ci sono i tifosi in trasferta nel nostro stadio dove ormai non ci sono più l'unica volta che ci sono stati con la Lazio è stata una festa tutta la partita grandi applausi grandi cori appena i tifosi organizzati non ci sono più e prevale il tifoso che vuole vedersi la partita come spettacolo e non come partita di calcio arrivano i fischi perché sono divisioni diverse Claudio lo sai anche tu il concetto del bel calcio è molto soggettivo e secondo me anche relativo dipende da uno come vuole vedere la partita come se la immagina dall'idea che ognuno di noi ha del calcio io credo che quando la Juventus non permette all'avversario di andare alla conclusione e lo fa magari l'avversario una sola volta o due volte considerato poi il valore la cifra tecnica anche dello stesso dico che comunque ho visto una bella partita dal punto di vista difensivo della Juventus cioè non è che non mi piace cioè se io devo giocare bene giocare bene vuol dire fare tanti gol e prenderne altre tanti allora sì è bello spettacolare ma se non faccio punti non vado da nessuna parte in Champions non ci vado capisci quindi bisogna vedere è molto soggettivo secondo me il concetto del bel calcio a me piace la Juventus che difenda bene che proponga tanto e che porti a casa i punti questo è ma perdonami io sto impazzendo ma guarda che io non mi sono divertito a vedere no perché la gente secondo me è veramente ma io anche mi sono divertito a vedere Juve Lecce anzi io ho detto le peggio cose di quella partita però se tu noti se tu noti nel primo tempo la gente alla fine del tempo fischia ma non perché la Juve non ha giocato bene perché è 0-0 con Lecce perché è bastato il gol della Juve e in quella stessa partita in quello stesso stadio i fischi sono diventati applausi anche quando è uscito McKennie e anche alla fine perché hai vinto 1-0 nonostante lo schifo di partita allora lo scopo del calcio è vincere non andare al circo Michele cioè tu dici ci mancherebbe altro capito però quando la Juve si incontrava Lecce ma perché non vinceva esatto perché perché il Lecce in quel momento lì rappresentava comunque una delle novità del nostro campionato stava promuovendo un bel calcio e dove andava lo dicevi tu ce l'hai ricordato costruiva da 7 a 10 gol a partita quindi se noi riusciamo a fare meglio di tutti gli altri coloro che hanno affrontato il Lecce secondo me permettimi che è un buon risultato come dire a 360 gradi non solo dal punto di vista numerico abbiamo vinto ma anche per aver fatto una prestazione tutto sommato con una squadra che in quel momento lì era una delle formazioni più in forma della prima parte della stagione delle prime 5-6 gare e quindi secondo me è un merito questo non può essere un demerito che poi le aspettative post Sassuolo fossero alte e probabilmente volevamo tutti vedere una reazione della Juventus magari diversa vincere 3-4-0 ma oggi non è così facile vincere 3-4-0 cioè attenzione ma questo non per la Juventus per tutti anche quelli che hanno un parco attaccante molto più più completo Io mi immedesimo nel tifoso juventino e chiederei solamente un pochettino più di costanza nelle prestazioni giustamente abbiamo elogiato la Juve in in Juve in Juve Lazio però quella prestazione è stata affine a se stessa e purtroppo non essendoci questo tipo di continuità giustamente il tifoso gli si girano anche le scatole perché non vede sul campo quello che prova quello che vorrebbe e questo c'è una squadra che ad oggi tu puoi definire come la squadra che ha già trovato gli equilibri e quindi è costante le sue no secondo me indipendentemente dai risultati per me indipendentemente dai risultati una vera antagonista in questo campionato c'è ed è l'Inter cioè indipendentemente dal risultato dell'ultima partita che per come la vedo io è un inciampo perché il Sassuolo negli ultimi anni ha sempre messo delle grosse difficoltà alle grandi però io la vedo una squadra che ha già un'alchimia importante diciamo che la vedo però Virginia permettimi però sta palesando anche lei qualche difficoltà quindi non è costante non ce n'è una che oggi è costante nel suo rendimento costante o in crescita lo è stato il Napoli nella passata la sua zona sempre costante anzi proiettata sempre a migliorare il suo rendimento tant'è che finisce il campionato con tanti punti sulla seconda però oggi non c'è perché tutte le squadre hanno fatto chi un po' bene un po' meno bene chi ha fatto meglio però non c'è un rendimento quindi voglio dire siamo tutti nella stessa situazione certo e poi ogni ambiente ogni movimento è legato alla propria squadra è molto esigente noi soprattutto siamo diventati molto esigenti il Napoli di Spalletti osannato l'anno scorso l'anno prima lo volevano cacciare Spalletti sì certo sempre lo stesso allenatore l'anno prima con la squadra che giocava bene a calcio lo volevano cacciare ricordatevelo e dopo che ha vinto lo Scudetto e dopo che ha vinto lo Scudetto se ne è andato lui la partita col Sassuolo non è stata una sconfitta normale anche questo voglio dire cioè un conto è perdere 2-1 in quel modo che comunque l'Inter ha giocato male tutto quanto non ha fatto niente dopo che è passata in svantaggio ma noi c'è stata una partita surreale al di là del della sconfitta al di là di quello che ha fatto il Sassuolo ma di quello che noi stessi abbiamo fatto cioè l'ultimo gol parla da sé ma è anche il primo capita eh di sbagliare per carità infatti non c'è da prendersela tanto secondo me con gatti per dire però rimane sono quelle partite che rimangono nella testa del tifoso per per tanto tempo ma diventano quasi dei traumi del del tipo ma una squadra ma come ma come ma come quel Fiorentina Juve finita 4-2 l'anno di quote sono quelle partite che ci hanno dei risultati loboanti e che portano a pensare è stata traumatica dai diciamocelo sembrava non finire mai un incubo senza fine era incommentabile chiaramente il tifoso preso dall'irrazionalità e dall'emozione dopo una partita del genere non pensa neanche minimamente allo scudetto cioè non lo pensa perché dice ma una squadra che vince uno scudetto può fare questa partita qui può vincere ci sono modi poi vorrei uscire anche dall'argomento allenatore però vai Ofeo ma Susanna però è vero che abbiamo visto degli errori così scolastici così elementari così così gradi che ti sembrava una gara veramente surreale e io come dire la distinguerei da tutte le altre gare perché è successo qualcosa di secondo me di anomalo al di fuori dello sport perché sono entrati in gioco aspetti secondo me anche cognitivi mentali dove veramente anche quello fa parte di una cioè una squadra che deve andare a lottare per lo scudetto o deve avere anche la mentalità giusta certo certo però quante volte abbiamo visto la Juventus interpretare come quella gara altre gare io francamente non me lo ricordo anche storicamente al di là poi di aver perso qualche partita e aver preso una goleada cioè quello che è successo a Gatti secondo me raccoglie testimonia un po' lo status di quel momento della squadra perché in quella partita erano tutti fuori dalla partita nessuno era dentro nella partita perché se succede che a volte hai un giocatore due giocatori tre giocatori in un contesto che non funzionano l'allenatore fa i cambi lì dovevi fare 11 cambi tutti erano un po' fuori dalla partita c'è qualcosa secondo me che va al di fuori va al di fuori sono d'accordo ma è talmente tanto assurda che in quel momento il tifoso non pensa positivo l'unica cosa che può pensare è ok probabilmente non accadrà più perché perdere in quel modo ma anche soprattutto da una squadra di Allegri ve lo aspetto al massimo una volta per esempio Murino sta facendo schifo dall'inizio della stagione e mi aspetto che la Roma faccia così fino a fine stagione da una squadra di Allegri mi aspetto che ok è capitata questa volta ma perderemo altre partite non dico questo anzi sicuramente ne perderemo un po' però anche no dai anche no io credo che ne perderemo ma perché in generale è un campionato in cui molte squadre perderanno molte partite perché è un livello basso sicuramente questo però è una partita appunto come dicevi tu talmente strana che non credo possa ricapitare in questi termini non capitano quasi mai come dicevi tu in generale ma rimangono impresse nella mente del tifoso perché si parlava di questo della percezione del tifoso di non riuscire più come se avessimo fatto zero punti in sei partite ma sono davvero dei traumi quasi proprio perché partite strani e molto rari come come casi intanto no volevo fare un piccolo inciso che non ci incastra niente però mi fa piacere leggere che il giocatore del Nizza che in questo momento stava minacciando di suicidarsi insomma è stato tratto in salvo quindi volevo volevo dirlo se ci fosse qualcun altro preoccupato quantomeno tiriamo anche un sospiro di sollievo di sollievo di sollievo